Sono la ragazza più carina del mondo! Dana, cos'è quello? È il mio rossetto preferito! Occidenti! Ma non volevo! Il mio trucco è vietato! Pulisciti la faccia, per favore! Ma io mi ero così impegnata! Pulisci anche lo specchio! Tutto ciò che ho sempre voluto è assomigliare alla mamma! Oh, che cos'è? C'è qualcosa! Devo entrare! Devo solo sfondare il muro! La mia testa! Forza, muro ostinato! Cosa posso fare? Lo so! Tutto questo sforzo è troppo! Ha funzionato! È affascinante! Cos'è questa stanza? È buio pesto! Ecco l'interruttore! Wow! Una stanza per il trucco! Ma che succede alla luce? La tensione deve essere cambiata! Accesa! Stai arrivando qualcuno! Devo nascondermi! Tesoro, stai tranquillo! Sono solo un paio di graffi! Sei la mia salvatrice! Da dove inizio? Dalla scatola, credo! C'è un sacco di vecchi trucchi! Un vero tesoro! Oh, sembra la mappa del tesoro! Oh, papà! Dovrei farmi crescere la barba! Non può vedermi! Boo! Sai, sto meglio senza peggio sul viso! Cos'è questo rumore? Viene da lì! Oh, mi ha sentita! Incredibile! Cosa faccio? Ehi, ragazzi! Premete su mi piace! Mi servono 5.000 mi piace per evitare che papà trovi la stanza segreta! Per favore! Sì, ha funzionato! Oh, è la mia immaginazione! La strada è libera! Posso nascondere i soldi nella mia scorta! Cos'ha nascosto lì? Vediamo! Con tanti! Li terrò qui! Prendere i soldi dei tuoi genitori senza chiedere non è bello! I libri saranno utili, in effetti! Sono così pesanti! Un po' di vernice e abbiamo le gambe per il tavolo! Ho bisogno di un piano per il tavolo, però! Questo scattale farà il caso mio! Lo dipingerò! Così avrò un tavolino da salotto! Tanto vale pulire anche qui! Mamma? Papà? Tesoro, questo è per te! Cosa stanno facendo? Oh, tesoro! Le pulizie possono aspettare! Oh, tesoro! Cosa? Un altro bambino? È la mia immaginazione! Fiori per la più bella moglie di sempre! La cosa si fa interessante! Pronto? Oh, arrivo subito! Tesoro, ma dove vai? Il film è finito! Cosa posso fare con questa scatola? Lo so! Mi serve un trapano! Fatto! È molto più saldo! Ora dipingerò! Perfetto! E soprattutto... Un morbido cuscino! Si adatta perfettamente! Ora ho uno sgabello comodo! È affascinante! Lo immaginavo! Cosa? I libri non ci sono più! Ma i miei soldi sono ancora qui! Che sollievo! Non è sicuro tenervi qui! Posso iniziare a truccarmi! Dov'è lo specchio? Wow! È così carino! Ma è un quadro? C'è un'entrata segreta! Sono finite in bagno! Mi prenderò lo specchio! Ups! Missione completata! Lo specchio avrebbe bisogno di qualche ritocco! Rivestirò la cornice con schiuma da costruzione! E lo dipingerò! E lo dipingerò! Farò dei buchi! Aggiungerò delle luci! E così! Avrò creato un bel capolavoro! Andiamo! No! Le luci sono troppo basse! Questo dovrebbe bastare! Aggiungiamo il tulle! Wow! Stupendo! Inizierò con questo glam! O questo! Alla fine andrò con questo! Attacco la foto proprio qui! Una palette di ombretti! Oh no! È decchissima! Questo è un vero disastro! Il rossetto sembra a costa! Non ha un buon odore! Ma proviamolo! Mamma! Devo truccarmi? Occhi? Wow! Il suo eyeliner è perfetto! Wow! Mascara? Ottimo! E il rossetto! Evidenziamo le labbra! Un po' di farda? Sono pronta ad andare! Wow! Tesoro! Sei elegantissima! Mia madre è così bella! Tesoro! Sei stupenda! Sono così carini! Spero che i miei soldi possano comprarmi nuovi trucchi! Diamoci dentro! Prendo questo! E i soldi? Ecco! Bella mamma! Devo andare! Passerò più tardi! Ottima scelta! Sì! Lo so! Che giornata meravigliosa per fare shopping! Oh! Ho lasciato il telefono in macchina! Cose nuove! È tutto per me! Eww! Fa un po' caldo! Wow! C'è un sacco di roba! Tutto quello che serve per un look perfetto! Oh no! Il mio tavolo non regge tutto quel trucco! Cosa faccio? Ecco un'idea! Costruirò un elegante scaffale per i trucchi usando cartone e colla a caldo! Poi lo dipingerò! Pronti! C'è spazio per tutti i trucchi! Oh! E i pennelli! Oh! Oh! Mi serve un nuovo ripiano! Papà è occupato! Per ora puoi stare qui! Questo può servirmi! Che c'è? Mi sono sbagliato! Terrò anche questo! Il grigio è spento! Ora sì che si ragiona! Un bel po' di decorazioni! Adorabile! Un bel supporto per l'asciugacapelli! Userò le ciotole per creare un supporto per gli accessori! Ottimo lavoro! C'è posto anche per i pennelli! Le ragnatele rovinano tutto! Era ora che ce ne liberassimo! Molto meglio! Dov'è la roba che ho comprato? I miei trucchi! Sono spariti! Amore mio! Stai bene? Dimmi cosa è successo! E le mie borse con i trucchi erano qui e sono sparite! Le troveremo! Dove devo cercare? Ci sono stati i ladri! Non abbatterti, tesoro! Vederti piangere mi uccide! Ehi! Cos'è? C'è qualcosa dietro lo specchio! Wow! Ecco la mia roba! Ops! Cosa? Tesoro, sei stata tu! Passami questo! Oh, tesoro! Hai così tanto da imparare! Vieni! Prendiamo questi! Ehi! È da pazzi! Per cominciare, trucco per bambini! Ottimo! Contanti! Ecco a te! Mi servono due dollari! Oh, è tutto quello che ho! Ci sono io! Ecco! Che fortuna! Dovrebbe essere sufficiente! Il trucco è nostro! Ma prima ti ripulisco il viso! Il trucco per bambini è quello che ci vuole per una pelle giovane! Un po' di ombretto! Qualche stella! Fardo! E lucida labbra! Grazie, mamma! Stai benissimo, tesoro! Tesoro, guarda la nostra piccola! Fantastico! E Pikachu è in regalo! Tesoro, il trucco è fantastico! Ma devi andare a lezione! No! No! Hai fallito ancora una volta! Ripassa di nuovo! Non lascerai la tua stanza finché non la conosci a memoria! Non studierò più! Mi nasconderò! Così non mi troverete mai! Cos'è questo posto? C'è la mappa di una stanza segreta! Adorabile! Pikachu, che ne dici? Costruirò la mia stanza segreta dietro il mio armadio! Mettiamoci all'opera! Per prima cosa devo spostare l'armadio in avanti! Misuriamola a distanza! Ecco quanto lo sposterò! Libererò un po' di spazio per l'armadio! Spostiamo tutti i mobili! Questo spazio dovrebbe essere libero! Ecco! Ora posso spostare l'armadio! Oh, è troppo pesante! Oh, giusto! Posso alleggerirne il peso! Vestiti vi butto fuori! E adesso? Oh, ho un'idea! Il sapone liquido può salvarmi! Ora sì che è un gioco da ragazzi! Oh, arriva papà! Nessuno può vedere le prove! Cos'era quel rumore? Oh, bella giacca! Perché sei qui? Devo rimetterti nell'armadio! Cosa? Perché c'è del sapone liquido? Ai! Che succede? Armadio, vacci piano! Oh no! Sono un bersaglio facile! Dovrei ricoprire l'ingresso segreto nella stanza! Le tende sono la soluzione migliore! Nessuno troverà l'ingresso ora! Oh, un tappeto! Giusto! Un terremoto! Meglio tirare forte! Oh, cos'è stato? Il tappeto sarà mio! Ecco! Il tappeto è più grande del provisto! Piano! Ce la farò! Non entra! Dall'altra parte? Oh sì! Ha funzionato! Un tappeto morbido in camera mia! Sedersi sul pavimento è scomodo! Penserò a qualcosa! Oh sì! I miei pompon fortunati! Mi aiuterete! Farò un tappeto morbido con voi! Oh sì! Bello! Papà, stai facendo un pisolino? Mi servono tre cuscini! Uno, due e tre! Tre! Cosa? Che c'è qui? Come osi svegliarmi? Vieni faccia a faccia con me! Caglia! Cos'è questo? Cos'è rimasto nel mio cuscino? Il papà detective è sulle tracce! Le tracce del cuscino portano in cucina! Io! L'ho perso! Interessante! Armadio, ancora tu? Voglio il mio cuscino! È tutto libero! Dov'è il mio cuscino? Come vuoi! Ne farò uno nuovo! Ho una federa! E delle prove! Essere un detective è un lavoro duro! Wow! È bello! Ancora un po' di imbottitura e abbiamo finito! Ho fatto un cuscino! Ora posso fare un pisolino! Cosa? Dov'è la mia coperta? Ladri! Almeno mi hanno lasciato la tv! Ultime notizie! C'è stato un aumento dei furti in casa e in città! Questo è perfetto! Non riesco a raggiungerlo! Giusto! Mi serve una scala! Davvero? È una follia! Ok! Iniziamo! Oh, i popcorn sono finiti! È bello avere dei rinforzi! Cosa? Dietro di te? Ehi! Mi senti? Non capisco! Ci sono quasi! Dietro di te! È quasi finito! Ah, non ha senso! Ti faccio vedere io! Eh? Qui dietro? Ah! Bel gioco! Ehi! Non essere scortese con i tuoi telespettatori! Megan! Tesoro! Buon compleanno! Tesoro! È Megan! Tanti auguri a te! Ops! Questa decorazione richiede un abbinamento! Un bel portafoto! Prima lo dipingo! Tocca a te, pasta! Dipingi e incolla! È molto carino! La mamma non si accorgerà di nulla! Tesoro, non è un tuo problema! Che cosa ha detto? Davvero? Oh, è pazzesco! Aspetta! Lo sapevo! Che bugiardo! Tesoro, cosa mangiamo per pranzo? Zuppa d'acqua? Credo che mi metterò a dieta! Ah! Una mela! Candele! Bevande! Belle vibrazioni! Tesoro! È perfetto! Sorpresa, sorpresa! Cosa? Chi ha fatto questo pasticcio? Non sono stato io! E che pulisce? Bella sorpresa! Fermati un attimo! Forse so di cosa si tratta! Spero che tu lo sappia! Ora ho un tavolo e delle decorazioni! C'è qualcuno nell'armadio! Cosa? Ecco, io me ne vado! Sentiti libero! Preso! Niente! Com'è possibile? Bene! Nel mio piano è andato in fumo! Ops! Non sono stato io! È mia casa! Ora è un rudere! No! Ti darò una nuova vita, mia cara casa delle bambole! Cambieremo il colore in rosa! E userò la casa come scappale per tutte le mie cose preferite! Caffè! Panna montata! E cannella! Una sorpresa per la mia cara mogliettina! Cos'è stato? Papà resta concentrato! Non ho bisogno delle uova! Prendo il cartone però! Inviato! Cosa? Giusto! Ho dimenticato la torta! Oh oh! Ops! Tu! Aspetta! Che schifo! Scusa papà! Io e il porta uova usciremo dalle scene! Ora devo tagliarlo! Trasformiamo il contenitore delle uova in fiori! E mettiamoli su un cordoncino di luci! Wow! Il risultato è stupendo! Il bacio dello chef! Il mio giardino fiorito! Sono vivo! Accidenti! Dov'è quella ragazza? Dana! Vieni subito fuori! Papà sta arrivando! La cucina è in disordine! Chi sarà stato? Ti stai nascondendo qui? Cosa faccio? Mi troverà! Ehi ragazzi! Per favore premete su mi piace! Così papà non mi troverà! Mi imploro! Sta funzionando! Shh! Tisano? Devo farti vedere una cosa! Vieni! Cosa hai lasciato sul pavimento? Pulisci subito! Ok tesoro! Ci penso io! Voglio che il pavimento sia pulito e senza macchia! È chiaro? Questo mi sarà utile! Che schifo! Dove sono gli asciugamani di carta? Pulisci! Ok! Qualsiasi cosa per te! Gli asciugamani sono inutili! Ma i rotoli? No! Tagliamoli a metà! E incolliamoli alla base! Tutto quello che dobbiamo fare è dipingere! Voilà! Il mio scaffale è pronto! Una casa per la paperella! Adorabile! Fantastico! Balla papà! Prendo solo questo filo! Grazie! Lo tirerò ancora un po'! Ottimo! Ha fatto un simpatico acchiappasogni con il maglione di mio padre! Farà la guardia ai miei sogni! Tesoro! Cos'è successo al tuo maglione? Ti sei perso nel momento! Ups! Non sbirciare! L'ultima cosa da fare è inchiodare la lavagna! Oh no! Uh! Una grande lampada puzzle! Tu potrai stare! Ora metterò il mio pannello dei sogni! Qualcosa è andato storto! Cosa posso indossare? Uh! La giacca è molto meglio di un top in maglia! Uh! Cosa sono questi rumori? Ora lo scoprirò! Wow! Papà! Ehi tesoro! Bel posto! Brava! Sì! È la mia stanza segreta! Mi piace! Potrei aiutarti a montare quella lavagna! Grazie papà! Nel frattempo farò i miei compiti che odio tanto! Cosa sono questi rumori? Qualcuno vuole entrare? Ho fissato la tua lavagna! E ho finito i compiti! Adoro la nostra famiglia! Andiamo tesoro! Dovremmo dirlo alla mamma! Fermatevi ladri! Non otterrete nulla! Tesoro, calmati! Non sono ladri! È la nostra stanza segreta! E i tuoi compiti? Ti ho finiti! Fammi vedere! Come ti sembrano? Nessun errore! Brava tesoro! Ce l'hai fatta! In questo caso direi di costruire altre case segrete! Ho un progetto! Evviva! Oh sì, mi piace! Diventeremo ricchi! Mi scusi, signore! Vorremmo comprare questa casetta! Abbiamo risparmiato per un anno! Questi spiccioli non sono nemmeno sufficienti per un muro! Questa casa costa 999 dollari! Oh, questo sì che fa drizzare le orecchie! Sceglierò qualcosa per voi! Ecco! Tambole carine prese dalla spazzatura! Sono sufficienti! Bye bye! Stavamo cercando una casa! Cosa ne facciamo di queste? Ciao! Ciao! Wow! Sono vere! Andiamo! Eccoci qua! Wow! Sono per voi! Piccole casette di zucchero! Wow! Le casette sono deliziose! Fantastiche! C'è dell'altro! Wow! Sbrigatevi! Aprite il regalo! Cosa ne pensi? Sai, ci sono altre fate oltre a te! Anch'io posso evocare una bella casa! Wow! Una vera casa! Strapperò tutta la carta da regalo! No, lo faccio io! Dammi il fiocco! No! La tua casa ti sta aspettando! Puoi tenerti il fiocco! Wow! Puoi scartarla? Sì! Voilà! Dipingiamo questo posto! Ehi! Perché non posso dipingere con uno schiocco di dita? No, no, no! Qui ci vogliono pennello e vernice! Oh, guarda! Usano ancora i pennelli per dipingere! Fa così vecchio stile! Ehm! Sono cattive! Ho la chiave per la vernice perfetta! Terra fresca e friabile! La tonalità è fantastica! Ecco, questo andrà bene! Mi passi il pipistrello? Perfetto! Hai risaputo che il modo migliore per mescolare la vernice è usare le ali di pipistretto? Sta venendo bene! La vernice è pronta! Che bella tonalità! Ah, e cosa sta facendo, sirena? Prendiamo un drullo e la vernice è blu! Ecco! Wow! È facile! Riuscirò a dipingere la casa in men che non si dica! Guarda! Sono più veloci! Oh, gli darò una mano io! È un po' difficile quando non si ha la vernice! Ops! Ehi, smettila! Torna a casa tua e lasciaci in pace! Allora passiamo alla modalità Fast and Furious! Finiremo la casa in un lampo! Wow! La adoro! Hanno già finito? I vampiri però tengono il passo! Privale! Mi faranno fallire! Venteranno le loro case a 2.000 dollari per rubarmi i clienti! Dovrò abbassare il prezzo! Promozione! Una casa a 499 dollari! Forza! Venite! Dovrò abbassarlo ancora di più! E poi prenderò misure drastiche! Svendita! Solo 99 centesimi per una casa! È una follia! No, non succederà mai! Devo fare qualcosa! Farò fuori le rivali! Tu! Butta quella manza! Non è come pensi! No! Wow! Bel colpo! Wow! Non tornerà tanto presto! Ora butto via i piatti! Aspetta! Potremmo dipingerli e trasformarli in tegone! Sì! Sembra un buon piano! Il nostro tetto è stupendo! Anche questo bicchiere potrebbe essere utile! Ci serve la vernice bianca! Ed ecco un disegno di bolle di mare per la parete! Che te ne pare? Wow! Ti aiuto io! Sono venute bene? Guarda! Ho un bicchiere! E a cosa ci serve? Cosa? Oh sì! Perfetto! Più nero! Ottimo! Il nostro tetto è uguale a quello delle vicine! Wow! Questo tetto è eccellente! Ma dov'è la porta? Facciamo uno schizzo con il compasso! No! Non funziona! Giusto! Ho dei denti affilati! Fatto! E allora? Colpisci, no? Wow! Devo dare più credito alle mie bellissime zanne! Wow! Sorridi! Ti faccio una foto! Oh! È una foto per il dentista? Certo! È un'ottima idea! Si vede da lontano un miglio che la casa appartiene a un vampiro! Sì! Santi nomi! Cosa dobbiamo fare? Ecco cosa penso! Attenzione! Adorabile! Con cosa facciamo la porta? Un minuto! Ne prenderemo una! Eccolo! Il nostro squaletto domestico! Ta-da! Che ne pensi del nostro ingresso affilato? È stupefacente! Mangia, piccolo squalo! Cosa? Non dare troppo da mangiare agli squali! Comunque, è solo una porta! C'è un pacco esplosivo per voi! Dinamite! Ecco, è tua! No, è un regalo per te! Ciao, ragazzi! Per favore, premete su mi piace! Così la dinamite non esploderà! Continuate così! Ci manca solo un like! Oh! Grazie mille! Il tuo posto non è qui! Per favore, non colpirmi! No, 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 no! Wow! Attimo lavoro! Ciao, puoi giocare a palla? Certo! Il mio bellissimo vetro colorato! Sta arrivando! Ops! Oh, no, no, no! Le palle sono un no secco d'ora in poi! Non distruggerai la mia casa, pezzo di gomma! Guarda! Ai! Ops! Oh, è proprio bella! Wow! Got chic! Prenditi una pausa, sirena! Ci penso io! La finestra andrà proprio qui! E ora devo segare! Oh! Forse è meglio mettere le cuffie a sirena! Oh! Ecco! Tutto fatto! Si adatta come un guanto! Vieni qui! Guarda! Che succede? Battaglia di noodle da piscina! Ops! Scusa, sirena! Non era intenzionale! Basta giocare! Cos'è questo casino? Ora li tengo io! Sapete? Ho qualcosa per voi! Evviva! Hai evocato degli snack! Tesoro? A casa! Subito! E prendo anche questo! Cosa stai facendo? Vuoi aiutarmi? Dipingi questi di nero! Tutto fatto! Proprio quello che ci vuole! Oh, sì! Aggiungiamo le candele alle nostre colonne! Stupefacente! Il cestino andrà proprio qui! Dobbiamo tagliare molti tondini! Si trasformeranno in alghe e coralli! Mettiamo questi ai lati! Wow! Sembra che la nostra casa sia cresciuta con le alghe! Possiamo trasformare questo piatto in qualcosa di carino! Vieni qui, cavalluccio marino! Traccia! Ritaglia! E attacca! Stupefacente! I cavallucci marini sono adorabili! Il recinto fatto con la cassetta andrà qui! Ottima scelta! Sei davvero intelligente! E qui sul muro vivranno alcuni pipistrelli! Eccellente! Aiuto! Sono in trappola! Resisti! Ti faccio uscire! Stai bene? Stupida rete! Va buttata nella spazzatura! Calma! Potremmo usarla! Ora abbiamo un recinto! Per chi è la consegna? Attraverso il paese delle fate, il passo di Ladybug e dritto alla casa del vampiro! Credo sia per te! Dammi la bara! Oh! Ossa perfetta e un occhio! Eccidenti! Ecco un po' di soldi! Sono a posto così! E' così sensibile! Dov'è il ragazzo? Ecco la tua corona di fiori! Oh grazie! Beh, lanciamole qui intorno! Wow! Wow! Che bel recinto! L'osso è meraviglioso! Wow! Manca un osso! Ah! Aiuto! Eccolo il mio osso! Scendi subito! È così spaventosa! Eccomi! Sono pronta! Un minuto! Abbiamo il tappeto rosso! È fantastico! Benvenuta! Mi occupo io dei tubi! Ok! Ehi! Cosa c'è lì? Guarda! L'occhio è stranamente rotondo! Una maniglia perfetta! Ragazze, venite qui! Volete fare un sacco di soldi? Vendete le vostre case a me! Cosa? Sono soldi finti! Continua a volare! Fai un buon volo! Ehi piccola! Vieni qui! Guarda cosa ho trovato! I tubi saranno dei bei ripiani! Mettici sopra queste decorazioni! Ottima idea! Lampada a forma di medusa! Wow! È il dipinto di un museo sottomarino! Il pezzo forte del nostro progetto! Il mio scaffale per gioielli a forma di bara! Elegante e tenebroso! Proprio come il mio genere! Wow! Un tocco di rosso! E qui è dove starà il mio tavolo di ossa! È chic! Stupendo! Ora raccontiamo storie paurose! Ah, le loro case sono quasi complete! Ehi, andiamo a una festa in piscina? Oh sì, ma ho un piano migliore! Andiamo! Prepariamo la nostra piscina! Buon pomeriggio, vicine! Chi è quello? Ehi, chi è? Non ne ho idea! Costruiremo una casa qui accanto! Ehi piccola, vuoi unirti a noi? Voglio andare a una festa in piscina! Potrei fare in modo che accada! Tuffati! Dove sono finita? Wow! Ciao! Non riesco a respirare! Ops! Non ci avevo pensato! Benvenuta! Puoi rilassarti in piscina? La voglio! Possiamo costruirla proprio qui! Farò delle fondazioni con questo! Oh, costruire è difficile quando si ha la coda! Devo sistemare il problema! L'elisir magico mi aiuterà! Ne applico una piccola quantità! E in un attimo la coda si trasforma in gambe! Ora continuiamo a lavorare! Fatto! Bel lavoro! Cos'è quello? Ci sono un sacco di cose interessanti! Cose di bellezza! Le proverò! Assembliamo i pezzi! No! Non puoi giocare con i miei trucchi! Che cattivaria! Ho bisogno del tuo aiuto! Ok! Tieni l'abitatore! Grazie! Vedi? Non è un problema così grande! Cos'è questo? Mi sono trasformata in una sirena! Dov'è la piccola? Passamelo subito! E aiutami! Tu non hai bisogno della coda! Torna umana! Continuiamo la piscina? Assolutamente sì! Andiamo! Non capisco! Avrebbe dovuto essere già a casa da un po'! Dov'è la mia bambina? Scusami! Hai visto questa ragazza? No! Non l'ho vista! Ma come? Agente! Sto cercando mia figlia! Non è tornata a casa dalla piscina! Posso aiutarla? Prendiamo più solido il fondo della piscina! Io scelgo la spillatrice! Ah sì? Bene allora! Ti darò una lezione! Aiuto! Sono distrutta! Ti ho fregata! Non proprio! Mi arrendo! Ho vinto! Fuori dall'acqua però! Ho ancora un po' di profumo! Oh! La mia coda è tornata! Per quanto riguarda te, ora ti prendo! Ok! Puoi avere il tuo profumo! Sei così divertente! Anche tu? Riempiamo la piscina d'acqua? Assolutamente sì! Dove è finita l'acqua? Qualche aggiornamento, agente? Non lo sento! L'ha trovata? Purtroppo no! Cosa facciamo? Ehi! Forse è meglio chiudere il rubinetto! Sei un buono a nulla! Ho fatto tutto quello che potevo! Le sedie a sbraio andranno nel posto migliore! Il mio personalissimo drink subacqueo! Ne vuoi uno? No! Come vuoi! Non c'è ancora l'acqua! E io muoio dalla voglia di entrare in piscina! Mi dispiace! Il nuoto non è previsto! Credo! Le tue lacrime potrebbero essere sufficienti a riempirla! Ragazza mia! Dove sei? Come faccio a trovarti? Ragazzi, premete su mi piace e aiutatemi a trovare mia figlia! Sento qualcosa! Piccola! Sei tu! Grazie ragazzi! La mamma sta arrivando! Che posto è questo? Tesoro! Estranei! Spostati! Fatto! Che cosa hai fatto? Quella è la mia mamma! Riportala indietro! Ups! Bene! Dammi un secondo! La mia bambina! LUC giant! La mia bambina! Che cosa hai fatto? LUCIAN- LUCIAAAA